L'area Paoletti firma una giornata importante per confermare anche il sostegno del tesoro l'avvertenza e questa anche delle importanti appuntamenti delle funghi. Assolutamente sì, già i lavoratori stanno portando avanti ormai da quinta una settimana un presidio permanente, fuori al giorno per le formative COVID, per portare avanti tutta una serie di richieste in vista di cui vi saranno l'incontro 11 a questo momento sviluppo richieste molto importanti che nascono purtroppo da delle denunce sindacali che non vanno avanti da quattro mesi, ma è bene ricordare che vanno avanti dal luglio del 2019 quando ABB ha venduto l'intero business personale ad un'azienda quattro volte più piccola. Denunciavamo allora...